Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi iniziamo ad aprire l'ultimo vagone, ossia le ultime scatoline che sono sul vagone numero 4 del calendario dell'avvento di Creazioni Cristi. Quindi oggi è 19, apriamo la numero 19 appunto. Sono anche diventata abbastanza brava a prenderle, avete notato? Quindi vediamo cosa c'è. Ho intravisto già qualcosa, credo anche voi, ossia le Vexolo e, ho detto che era diventata brava ma non è vero, quindi ci sono delle Vexolo Opac Red Mutted e delle Rokail Miyuki 11-0. Queste saranno sicuramente per il quarto progetto. Appuntamento a domani per scoprire cosa c'è nella scatolina numero 20. Buona giornata a tutti!